Ho appena finito di fare il riscaldamento raga, stretching ecco Buongiorno a tutti ragazzi, qui da chi è visto su un nuovo video Allora raga, innanzitutto vi ricordo, entrate nel mio gruppo telegram, molto molto importante, il link è in descrizione Oggi andremo a fare una cosa che è tipo due settimane che ci penso e dico, la faccio o non la faccio e alla fine sono qua e lo sto facendo Praticamente raga, su Instagram ci sono molte persone, molti bodybuilding, molte anche ragazze insomma che si filmano finché fanno palestra e mettono il workout su Instagram sul proprio profilo E io raga su Instagram ogni tanto guardo così per scoprire nuovi esercizi e mi è venuta questa idea Perché non faccio un video dove vado a riprodurre gli esercizi di queste persone famose che si riprendono finché fanno il workout nella loro casa e ci faccio un video Infatti sono qua, andremo a riprodurre qualche esercizio che fa un maschio e qualche esercizio che fa una femmina Penso che sarà soprattutto a corpo libero senza attrezzi però comunque se trovo qualcosa anche inerente con gli attrezzi lo farò, ok adesso vedo Ok raga mi raccomando seguitemi su Instagram, c'è sempre il link in descrizione E come vedete raga qua ci sono un po' di persone che fanno esercizi Allora vediamo questo esercizio qua, ok Va bene Come vedete sotto c'è scritto home abs workout e quindi andiamo qua Questo esercizio qua, diciamo che ci sta, potremmo farlo, ok E l'esercizio raga sarebbe questo Andiamo a contrarre Ok più o meno l'ho fatto, ditemi se ho sbagliato qualcosa in teoria no Poi raga vediamo cosa potremmo fare Andiamo a prendere una ragazza, tanto così per Ok vediamo questo Corpo libero, questo non mi piace Neanche questo Beh insomma qua c'è un po' da vedere Insomma cioè non mi piace l'esercizio però mi piace altro Oh porta dei guazzi Potremmo fare questo qua con la sedia raga che mi piace Ok Quindi in teoria andiamo a fare Tanto che mi spalto un piede Andiamo a fare questo Ok Sì Ok Ok più o meno l'abbiamo fatto raga sono esercizi che sto provando adesso Ovviamente tutti quelli che vedete in questo video non li ho mai fatti E mai provati quindi se sbaglio qualcosa è normale Però penso che per adesso abbia fatto tutto giusto Ok poi potremmo fare Penso potrei farlo mi piace anche quindi facciamo questo raga In teoria raga sto facendo giusto eh Ho sentito un botto qua raga Poi raga andando a prendere un'altra ragazza Vediamo questa Allora Carino Direi molto carino a parer mio eh Dai raga facciamo questo mi piace Quindi allora raga in teoria così e via Molto tosto anche questo Poi raga Poi raga avevo visto questo anche Potremmo fare che gli elastici questi qua per le gambe Li ho come vedete adesso Sedia elastico giallo il cielo E alziamo le gambe così Così raga dobbiamo alzare le gambe Bello Ah e anche le mani non avevo notato quel particolare Allora raga fascetta gialla ce l'abbiamo Uso veramente poco ste cazzo di fasce raga Ok andiamo a metterci bene Ok raga in teoria mi vedete la fascetta ce l'ho E incominciamo Allora Sto guardando qua anch'io il video Quindi allora su e giù 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 Facciamo l'ultima Quindi gamba su E mano giù Ok raga ce l'abbiamo fatta dai Vi giuro raga prima con le fasce Ma do Dai Quindi raga vi ricordo telegram in descrizione Ci tengo un botto che entrate nel gruppo Adesso raga io devo incominciare la mia scheda di giovedì Perché oggi per me è giovedì 16 aprile Siamo ancora in quarantena Non so Boh Teoria 4 maggio Questo video lo vedrete più avanti sicuramente Perché come sapete ho tutti i video preparati Però in teoria il 4 maggio Si potrà uscire Fare qualcosa Perlomeno andare So Dall'altra parte della strada Perlomeno Dopo boh Raga se volete fare come me Intendo Vedere questi esercizi Per imparare nuove cose Basta che scrivete Che ne so Hashtag fitness Su Su instagram In cerca E ti tengono fuori tutti i personaggi Tutte le persone famose Che fanno Che fanno sport Diciamo per lavoro Ecco Bella raga Io vi saluto Iscrivetevi Commentate Lasciate un like E noi c'è al prossimo Videò Il video E noi c'è al prossimo La visione Grazie a tutti